Musica Quest'anno ho dovuto aspettare un po' per capire chi erano i miei competitori, soprattutto Cortese, perché fino all'ultima notte non mi sembrava che i suoi fossero tanto convinti della sua candidatura. Il maggiore avversario quando sarò sindaco di Maddaloni potrebbe essere la rassegnazione dei maddalonesi, il disincanto, la disillusione, l'abitudine alla mancanza di regole. Questo credo che possa essere il mio maggiore avversario. Io sono sempre molto prudente, anche nelle espressioni del giudizio in termini lessicali, a Cozzaglia è un termine brutto. Nelle mie liste ci sono circa 240 candidati che sono persone per bene, persone appassionate alla politica, persone normali, dotate di talenti e contraddistinte da pregi e anche da difetti, come accade dappertutto. Se in questa città vale il fatto che nel momento in cui si diventa del partito della Moronese ci si pulisce come se ci si intingesse nella vasca di Silue, per cui voglio dire che uno si bagna ed esce mondo da ogni peccato, beh, la Moronese ha ragione. Io credo che oggi la distinzione e la differenza la fa anche la storia personale. Io ho una storia, in un senso o nell'altro, ho una storia. I maddolonesi possono giudicare la mia storia e ritenere se è all'altezza del compito oppure no. Io non posso giudicare chi non ha storia. Allora, io vorrei chiarire anche su questo aspetto sul quale giustamente, legittimamente, si fa, si tenta di montare la polemica. De Filippo imbarca tutti. Premesso che nel passato, nel tempo, a Maddaloni tutti hanno tentato di imbarcare tutti. E mi sembra tanto la favoletta di Fedro, quella della volpe e dell'uva. Quando la volpe, vedendo dei chicchi d'uva ricogliose, tentava di afferrarli e poiché non ci riusciva perché stavano troppo in alto, diceva non dummo matura est, non è ancora matura, non vale la pena, non la voglio. Molti di quelli che gridano al fatto che io avrei imbarcato tutti avrebbero volentieri imbarcato loro, quelli che non hanno deciso di andare con loro e hanno deciso invece di sostenere il mio progetto. Però io vorrei fare un ragionamento al contrario. Vorrei dire ai maddalonesi, se tutti diciamo che una delle malattie di questa città negli ultimi vent'anni è stata la conflittualità estrema tra le forze politiche che invece di pensare al bene comune hanno pensato a dilaniarsi tra di loro, io vorrei dire che dovrebbe essere apprezzato lo sforzo di chi cerca di mettere insieme il maggior numero di contendenti, il maggior numero di protagonisti per un progetto unitario. Cioè se i maddalonesi riconoscono che nel fatto che ci siano state sempre queste guerre, queste contrapposizioni, sia uno dei maggiori difetti di questi anni che ha prodotto stasi amministrativa, incapacità di decidere da parte della politica, credo che dovrebbero riconoscere il fatto che aver cercato di mettere insieme il massimo, di aver cercato il massimo coinvolgimento sia un elemento positivo. Ma vado oltre. Io ho già detto, ho già dichiarato, che qualora i maddalonesi dovessero riconoscermi riconoscermi le qualità necessarie per poter essere sindaco di questa città e io dovessi ricoprire questa carica, al giorno dopo io rivolgerò un appello a tutti coloro che faranno parte del Consiglio Comunale e non solo per contribuire ad un governo comune della città. Quindi io ho intenzione, se dovessi diventare sindaco, di imbarcare ancora altri, se lo vorranno, però intorno ai problemi della città, per risolvere i problemi della città, perché credo che noi siamo come una città che ha subito un terremoto, una città nella quale esistono solo macerie e quando bisogna rimuovere le macerie per ripristinare un minimo di normalità, non si chiede a colui che ti sta aiutando a rimuovere le macerie, qual è la sua storia o qual è la sua carta di identità. Ci si rimbocca le maniche e si rimuovono le macerie. Una volta che questo è avvenuto si potrà tornare ognuno sulle proprie posizioni. Quindi l'accozzaglia è un tentativo di portare a soluzione i problemi di questa città. Ma veramente ritiene la senatrice o il senatore o il deputato che un singolo partito oggi possa godere in questa città così dilaniata del consenso sociale necessario per fare quello che bisogna fare? Chi dice questo non conosce la realtà di Maddaloni. È fuori dalla nostra storia e come è capitato per il passato, anche questi adesso vengono a Maddaloni a dirci che cosa noi maddalonesi dobbiamo fare. E io ripeto, con grande affetto, con grande carbo, con grande tolleranza, Maddaloni e Maddalonesi.